attaccato assoluto c'è una carta si c'è una carta qua su un motore eolico ma dopo subito adesso siamo tutti a tre in cima alle valtre ma famo film di stava mandati al volo come fatto ho sempre sognato di farlo cosa prendere l'autobus al volo non fanno un po non c'è il fisico così e io metto così scusate si sposte l'avevo detto tutti a te che in cima arrivate voglio proprio ma non so se io voglio vedere come si butta sul treno e muore eccolo mamma quasi quasi mi scusi buon uomo fuori dal cazzo